Ettore Budano e Fabrizio Ilacqua, compagnia Teatro del Sorriso, spettacolo dritto al cuore, ritira Ettore Budano, consegna il premio al professor Alberto Agosti che invitò a raggiungermi sul palco. Un personaggio complesso attraversato da lacerazioni interiori derivanti da eventi devastanti del suo passato e da un ruolo, quello di inquisitore, che lo costringe a recitare una parte che interiormente gli causa un sentimento di ripulsa. La generosa recitazione ha comunicato altresì con profondità il suo dolore per l'accanimento su un suo simile e ha saputo assumere toni particolarmente vibranti e commossi quando il dialogo ha toccato i temi universali dell'arte e della poesia. Grazie